salve d'acropalati sono rientrato dalle macchie avevo messo la pignata anche le patate si possono cuocere nella nostra pignata buonissime si cuociono veramente in maniera omogenea di solito le patate non cuociono sempre bene bene quando le cuocete la pignata diventano veramente squisite non si spappolano ma allo stesso tempo sono tutte cotte in maniera uniforme provo patate bollite aromatizzate con ovviamente origano poco poco di aglio e anche del sale olio extraveggio d'oliva e un po di aceto buonissima io non compro quasi mai formaggio ultimamente sto facendo un'altra scelta tutto il resto non sa di nulla o a livello locale o prendo questo che si chiama il mentale quando trovo scondato un po di provolone e anche vi consiglio l'asiago quando lo trovate scondato sa di formaggio il resto boh o mozzarella che non serve di nulla tanto vale non comprare poco non sento niente questo non parlare la si la pasta gialla buonissima sapori veramente decissima buone 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 buone